Questa mattina voglio partire con un video, un video musicale, sperando che Facebook non cominci, non inizi a mandare i messaggi violazione di copyright, d'altro canto questo filmato l'ho preso su YouTube, se è lì e forse si sa che YouTube e Facebook non è che vadano proprio d'accordissimo, anche sta storia bisognerebbe un po' rivederla, porca miseria, se uno deve fare riferimento a qualcosa magari un 30 secondi dovrebbero concedercelo, speriamo bene, intanto iniziamo così Oh, lei è Gerardina Trovato, qualcuno se la ricorderà, in molti se la ricorderanno, quella che abbiamo appena visto era la sua partecipazione a Sanremo del 1993 nella sezione giovani dove arrivò seconda dopo Laura Pausini, quindi un grande piazzamento per una cantautrice molto brava, talentuosa che da Catania si era trasferita a Roma proprio per iniziare la sua carriera, dapprima come corista e poi e poi, e poi che cosa è successo? Perché non ne abbiamo più notizia? Allora andiamo a vedere un attimo questa mattina stavo leggendo un articolo sul messaggero che parlava proprio di lei e del fatto che si lamentasse per essere stata esclusa dal festival di Sanremo 2020, probabilmente avrà inviato una canzone che questo non lo so Amadeus dapprima le aveva detto se posso ti aiuterò, stai tranquilla, alla fine l'ha esclusa ma perché l'ha esclusa e che fine ha fatto Gerardino ha trovato? Leggo quest'articolo lei dice ho avuto una nevrosi depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici compresa una citolisi epatica, non conosco questo tipo di malattia, sono stata per diverso tempo paralizzata nel mio letto, anche dal punto di vista economico non me la passo benissimo lei prende 80 euro al mese dalla Caritas che ovviamente non le bastano per fare niente ha dichiarato ho finito tutti i soldi che avevo e sono costretta a chiedere aiuto a mia madre lei però non vuole aiutarmi perché dice che ho bruciato tutto in droga e in altri vizi ed ecco che arriva il problema, la droga e altri vizi quindi Gerardino ha trovato una grande artista, una cantautrice che aveva davanti a sé un percorso molto importante perché poi aveva fatto anche altri altri brani magari non allo stesso livello di questo ma comunque stava iniziando la sua carriera, si è bruciata ha bruciato soldi e ha bruciato la sua carriera per droga e vizi allora da stamattina che mi faccio questa domanda e mi dico ma allora Amadeus o chi per lui il festival di Sanremo o chi per lui doveva dare una possibilità a una che è comunque una grande artista per darle la seconda chance per potersi riprendere oppure visto che alcuni suoi fan che hanno partecipato ultimamente a qualche concerto hanno dichiarato quando sale sul palco non si capisce se è strafatta o se è ubriaca completamente insomma una scena pietosa, si doveva ripetere questa scena pietosa su un palco così importante e questa domanda che mi faccio da questa mattina certo è che chi è causa del suo male, si dice, pianga a se stesso anche se poi umanamente mi dispiace per Gerardina Trovato tra le altre cose questa canzone che abbiamo appena visto in questo frammento all'interno di questa canzone c'è anche una frase di Falcone che dice che chi non ha paura di morire muore una volta sola mi dispiace per lei e questa è la domanda che mi faccio da questa mattina bisognava dare una chance a lei o bisognava lasciarla lì in quel tunnel dove è andata a finire di certo c'è una cosa, Gerardina Trovato, purtroppo, si è persa